Sono stati molto entusiasti di partecipare al progetto Gaia perché ha consentito ai ragazzi di verificare dagli sensori montati in questo istituto i valori di umidità, temperatura, corrente e quindi questi dati sono stati utilizzati veramente per fare delle scienze applicate come è il senso del nostro istituto, noi siamo un liceo di scienze applicate e è di fondamentale importanza portare ai ragazzi la concretezza dei dati su cui viviamo e con cui lavoriamo ogni giorno. Mina elever ha spelato Gaia Challenge, e da tyckte dom var roligt. Som lärare var det väldigt lätt att dra igång, un breve introduzione e poi fixare tutto. De spela anche per fritid, e credo che era molto rollo. Vi aveva una tattata, dove la migdata la migdata di 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 migdata. La loro ho loss per dressed up risotto, quella l'altro modelare sono stabili delle centralazioni di migdata di migdata innan in iscriんだ luigiな il nostro paladico. Geri migdata che si ho lavorato di migdata di migdata della migdata di migdata, e anche se potessi migliorare per fare meno energetico. Un'altra domanda che si è arrivato, è che bisogna cambiare l'occasione per l'occasione. In un'occasione per l'occasione, abbiamo cambiato l'occasione per l'occasione. Ora è il progetto per l'occasione per l'occasione per l'occasione per l'occasione. La reale l'occasione per l'occasione per l'occasione per l'occasione per l'occasio. Un'occasione per ora di far clic tiampi, a comunica in chi è segnata la qual cosa sta intervado. di questo tipo di lavoro, come a capire, e anche sui metodi, sono stati con i metà di test, magari con i codici, magari con i cifrini, con i cifrini, con i cifrini, con i cifrini, con i hardware, con i cifrini, In un'amico, in un'amico, in un'amico, we work with Arduino, e in un'amico, e in un'amico, Arduino IDE, e in un'amico. Quindi, abbiamo dato l'amico di farlo. Penso che i questioni non sono molto divertenti. Il gioco era ok, ma penso che il più divertente era quando abbiamo creato i computer. Era divertente di codificare e di apprendere come fare. E poi, quando abbiamo visto, abbiamo fatto un'amico in class, abbiamo trovato un'amico per loro, e poi abbiamo visto come il calcio nel class room cambiato per il giorno. He studiato molto cose e si sono contento che si chiedono, che è così, è la sua risposta. Ci sono molto interessanti che sono interessanti con delle cose di video, con delle cose di risposta, con delle cose di risposta, con delle parole, e con delle cose di risposta. Oltre alla curiosità iniziale dei ragazzi per questa gara, vedere il punteggio, la loro posizione classifica, poi la cosa ci è tornata particolarmente utile anche per il nostro programma, perché ad esempio noi utilizziamo Excel, comunque fogli di calcolo, e invece che parlare di dati e fare grafici su dati così inventati, i ragazzi si sono trovati a manipolare i dati reali presi dai sensori della loro scuola. E quindi questo ha avuto un impatto positivo e ho notato che rispetto agli anni precedenti i ragazzi sono stati più contenti di vedere questa elaborazione e questi grafici venire fuori dai dati della loro scuola. Grazie a tutti!